Nella quinta domenica di quaresima ritroviamo un atteggiamento, una posizione che è necessaria per tutte le esperienze di fede, per tutti i camini che le persone desiderano fare nell'incontrare il Signore Gesù. Troviamo degli stranieri che portano infatti nel cuore questo desiderio e cioè il desiderio di voler vedere Gesù. Ci sono dei greci, ci sono dei pagani che simpatizzano probabilmente per la religione ebraica che salgono a Gerusalemme per avere un'illuminazione, per avere un'esperienza spirituale, per capire, per cercare di credere e probabilmente qualcuno ha parlato loro di Gesù, di Gesù di Nazare, di questo rabbì molto particolare e c'è questa richiesta che non è superficiale, è una richiesta profonda. Desideriamo vedere il Signore e approfittano, almeno così ci viene raccontato dal Vangelo, di Andrè e Filippo, nomi che tradiscono probabilmente anche una provenienza un po' straniera o comunque un'apertura sul mondo straniero, per avere un incontro con il Signore. Volevo dire che è proprio così che accade, cioè proprio la curiosità che ci spinge a cercare un incontro con il Signore. Noi che magari crediamo di conoscerlo ormai da tempo e magari in realtà non l'abbiamo mai veramente incontrato, ma noi che magari abbiamo la testa piena di parole e di idee su Dio corriamo il rischio di passare la nostra intera vita a credere di credere, ma noi capiamo in questo Vangelo che la fede è il desiderio di un incontro personale con il Signore, poter personalmente incontrare il Signore Gesù. Vogliamo anche noi vedere Gesù, anche noi oggi nella nostra quotidianità e ci sembra bello riconoscere, accompagnati da questo Vangelo, che questo incontro capita sempre attraverso l'aiuto, se volete la mediazione, a volte povera, a volte più efficace, a volte meno, di uomini come Andrea e Filippo. Sono i discepoli ancora oggi a prenderci, ad accompagnarci dal Signore Gesù per poterlo incontrare. Sono i discepoli di Gesù ancora oggi che lo indicano presente nel mondo. Ecco, questo mi sembra il primo messaggio di questo Vangelo, il quale poi ci apre alla prospettiva pasquale, no? Gesù dice ai Greci qualcosa di sconcertante, che in modo molto sintetico è la logica del dono di sé. Parlerà del Chicco, che caduto a terra, muore per poter portare frutto. Tutto diverso dall'idea che i Greci hanno dell'eroe che affronta indomito la morte, ma qui c'è dietro anche la fatica, la paura, la sofferenza, il dolore. Il Signore Gesù sta iniziando a prepararci a vivere i giorni della Pasqua, i giorni della sua morte, della sua risurrezione, i giorni della croce, in cui scopriremo che cosa vuol dire donare, no? Vuol dire morire per far crescere, per far aumentare l'altro. Questa dinamica del dono e della morte a sé ci sembra così tanto distante, ma chi vive un amore intenso, un amore vero, invece lo conosce tutti i giorni, no? Penso a un padre e una madre che muoiono a loro stessi, i loro progetti, i loro tempi per promuovere la vita del figlio. Penso al marito che muore un po' a sé per l'amore della moglie e viceversa. Ecco, Gesù ci sta portando piano piano ai giorni della Pasqua ai nuclei di un amore capace di essere dono.